Qual è la stomatite erpetica? Stomatite erpetica è una condizione comune tra i neonati e i bambini piccoli che si traduce in piaghe, irritazioni e gonfiore in bocca. È causata da una forma del virus dell'herpes simplex, una infezione incurabile che è probabile che ritorni sotto forma di stomatite o herpes labiale durante la vita di una persona. Un bambino con un'infezione attiva può avere vesciche dolorose sulle labbra interne, sulla lingua, sulle guance o sul tetto della bocca. La stomatite erpetica tende a risolversi senza trattamento in una decina di giorni, anche se i pediatri di solito suggeriscono che i bambini che mostrano i segni della condizione vengano portati in modo da poter fare diagnosi adeguate. L'herpes è un virus diffuso e persistente e la forma che causa la stomatite erpetica può essere trasmesse in diversi modi. Un bambino può contrarre l'infezione se mangia o beve dopo un genitore, un fratello o un pari che ha un focolaio attivo. Un genitore con un mal di freddo può trasmettere il virus baciando il suo bambino sulle labbra. In molti casi, non è chiaro dove un giovane raccolga il virus dell'herpes. Oltre alle vescicole, la stomatite erpetica può causare gonfiore della lingua e della gola che può potenzialmente causare difficoltà di respirazione e deglutizione. È normale che un bambino rifiuti cibo e si lamenti di un mal di gola. Alcuni bambini hanno febbre alta, portando a debolezza, affaticamento, nausea e brividi. È possibile avere focolai di stomatite erpetica da adulto, ma l'herpes è più probabile che si manifesti come un mal di freddo negli individui più anziani con un sistema immunitario più forte. Un genitore che nota possibili segni di stomatite erpetica dovrebbe fissare un appuntamento con un pediatra il prima possibile. Nell'ambulatorio del medico, il pediatra può di solito fare una diagnosi accurata semplicemente esaminando le ferite orali e chiedendo dei sintomi. Lui o lei può decidere di estrarre un campione di saliva o un pezzo di tessuto da un blister aperto per i test di laboratorio. Una volta che l'herpes è stato trovato definitivamente, il medico può aiutare i genitori a determinare le migliori opzioni di trattamento. La maggior parte dei casi di stomatite erpetica è di breve durata, causando sintomi che durano in media meno di due settimane. Molti farmaci da banco e di prescrizione medica possono aiutare ad alleviare i sintomi e ridurre i tempi di guarigione di un'epidemia grave. I pediatri suggeriscono comunemente farmaci antinfiammatori per via orale per ridurre il gonfiore e gli anestetici topici per alleviare il dolore e l'irritazione. Un paziente con una febbre grave può aver bisogno di essere ricoverato in ospedale in modo da poter somministrare liquidi farmaci per via endovenosa. Ai bambini che soffrono di focolai ricorrenti cronici possono essere prescritti farmaci giornalieri per ridurre la gravità e la frequenza dei problemi.